E restando all'interno di questa misura dedicata agli investimenti, un'altra operazione che vede una dotazione finanziaria piuttosto alta è la 4.2.01, ovvero gli investimenti destinati alle imprese agroindustriali in approccio individuale e di sistema. A Marco Calmistro, responsabile del servizio aiuti alle imprese della regione Emilia Romagna, abbiamo chiesto chi sono i beneficiari e come è coinvolto il mondo della produzione agricola. Beneficiano di questa operazione le imprese che si occupano di lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli o dei prodotti che derivano dagli allevamenti. E uno degli elementi importanti è che la ricaduta economica dell'investimento che queste imprese vogliono perseguire vada direttamente alle imprese produttrici. Quindi ci deve essere una stretta correlazione o perché è la tipologia di impresa che ha già una base imprenditoriale agricola consolidata, ovvero sono imprese che hanno contratti poliennali per garantire il conferimento o comunque l'approvvigionamento delle materie prime ai fini di questa lavorazione e trasformazione ed è comunque oltre il 50% della materia prima che loro lavorano o trasformano deve essere di provenienza da contratti definiti con le imprese produttrice di base. Questo intervento ha lo scopo comunque di dare maggiore competitività, maggiore forza di penetrazione sui mercati, di poter anche innovare linee di processo o anche di prodotto delle nostre strutture. È ovvio che gli investimenti devono tendere sempre di più maggiore attenzione alla sostenibilità di tutti gli interventi di miglioramento che intendono perseguire, anche con tecniche di biodilizia o comunque di efficientamento energetico, cioè una grande attenzione deve essere sempre riconosciuta alla sostenibilità ambientale di tutti i processi che le imprese vogliono perseguire. Fondi qui? I fondi sono oltre 114 milioni di euro e saranno gestiti con due modalità, una in approccio individuale per il quale prevediamo che il prossimo avviso pubblico possa avere validità a partire verso la fine del primo trimestre del 2016 e l'altra forma di approccio è quello di filiera, cioè come nella passata programmazione che è stata un'esperienza molto importante che ha visto catalizzare determinati obiettivi e perseguiti in modo comune sia dai produttori che dai trasformatori, ovvero anche dal mondo della ricerca, dell'esperimentazione, cioè hanno cercato di portare a sintesi filiere nel vero senso della sezione più ampia. Quindi possiamo dire che su questa operazione non fa domanda il singolo agricoltore ma fa domanda l'intera filiera? In un certo qual modo è la filiera che è il protagonista. Ci sarà un coordinatore, un leader, il responsabile della filiera che potrebbe anche essere soggetto che non è attuatore di un progetto per il quale chiede un investimento ma si fa da coordinatore di tutti i soggetti che partecipano a quel percorso di valorizzazione. Tempi in questo caso? I tempi noi prevediamo di uscire verso la fine del 2016 con un avviso pubblico anche perché dobbiamo dare la possibilità alla macchina organizzativa e anche alle imprese di poter aver consolidato perlomeno le altre misure o operazioni in approccio individuale. In questo caso come vengono suddivisi, diciamo, qual è l'intensità dei contributi? Su questa operazione prevede un contributo in conto capitale del 40% su una spesa ammissibile che varia da un minimo di 250.000 a un massimo di 5 milioni per gli investimenti in approccio individuale. Queste entità si modificano nell'approccio di filiera dove passa 100.000 euro come investimento minimo fino a un massimo di 3 milioni di euro. L'intensità dell'aiuto è comunque sempre il 40%. Grazie. 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 Grazie.